Si è presentato alla stampa l'ultimo arrivo di mercato, il nuovo numero 10 giallo rosso Guven Gialcine arriva dal Besiktas, classe 99 che ha voglia di imporsi nel calcio italiano. Si presenta come una prima punta ma che può adattarsi anche a fare la seconda e che ha voglia di stupire in questo torneo. Ho avuto il coronavirus quindi per due settimane non mi sono potuto allenare bene, per ora si sente pronto, ha ricominciato l'allenamento già da una settimana, parlerà con il mister, lui si sente già pronto per giocare ma ovviamente deciderà il mister il minutaggio. Mentre per quanto riguarda le sue prime impressioni su Lecce ha avuto un caloroso benvenuto, si sente già a casa, quindi già ci sono molti giovani calciatori che gli hanno già trasmesso molte emozioni ed è già pronto per Lecce. La mia posizione preferita è come attaccante, come prima punta, quindi come 9 ma anche come seconda punta dietro la prima attaccante, quindi come 11. Per quanto riguarda il calcio italiano l'ha sempre eseguito, ad esempio ieri ho visto la partita Inter-Juventus, il suo grande obiettivo è giocare nel campionato italiano ai massimi livelli e spero di farlo per molto tempo. Alla fine della conferenza il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha specificato anche un'altra piccola operazione di mercato in prospettiva. Che abbiamo prolungato di un altro anno di contratto a Meccariello, per cui è una comunicazione che approfitto per portare oggi a conoscenza.